Da qualche tempo la zona del costone roccioso situato in località Porto della città di Agropoli ed in particolare la scaletta posta in sommità risulta essere interessata da dissesti in varie parti. Ciò potrebbe causare eventuali frani o crolli della scaletta, con seri rischi per la pubblica incolumità, soprattutto durante la stagione estiva, quando un ingente numero di vileggianti e turisti giungono numerosi nella cittadina. L'amministrazione comunale, al fine di provvedere in tempi celeri alla suddetta emergenza, ha posto in essere tutte le iniziative di competenza, provvedendo a far ridigere l'opportuno progetto esecutivo dell'intervento in questione. I lavori prevedono la realizzazione di una batteria di pali e micropali, al fine di mettere in sicurezza l'intera area interessata. Per la realizzazione degli interventi verrà posto il divieto di accesso e transito a mezzi e persone negli aree interessate dal dissesto, nonché l'opportuno posizionamento di tutta la sinaletica e cartellonistica informativa di avvertimento in posizione ben visibile.